Giovedì 22 ottobre, buongiorno a tutti e ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione in diretta alle sette e mezzo con i giornali, giornali che tra poco sfoglieremo insieme a voi. Cominciamo dal Santo del Giorno, oggi è San Giovanni Paolo II, non c'è bisogno di dire nient'altro, l'abbiamo conosciuto tutti, un santo che abbiamo avuto anche qua a Fano 30 anni fa, insomma, San Giovanni Paolo II, il sole è sorto alle sette e mezzo, tramontanare 18 e 15, allora subito il tempo, il cielo, il cielo che si presenta alle sette e mezzo di questa mattina con tante nuvole e anche tanto vento, bisognerà vedere il mare, il mare sarà piuttosto agitato, 13 gradi, 14 gradi la temperatura questa mattina, fresco, cielo parzialmente nuvoloso con nuvole basse, non avremo precipitazioni, non avremo pioggia a parte giù, vedete, sui sibillini, in montagna, sulla parte meridionale della regione. Le temperature sono in lieve diminuzione, i venti nord orientali, poi domani, domani venerdì 23 ottobre, cielo parzialmente nuvoloso con temperature massime in lieve aumento, i venti sono settentrionali di vento moderato o vento teso con locali raffiche più intense, quindi domani ancora vento, il mare sarà dunque di conseguenza mosso, previsioni per sabato invece 24 ottobre, ancora cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso con temperature senza variazione di rilievo, i venti nord occidentali, il mare sarà mosso. Per i prossimi giorni avremo ancora tempo stabile. Allora intanto per quanto riguarda la politica, ieri a Fano Rosetta Fulvi ha preso il posto di Renato Claudio Minardi, dunque è il nuovo presidente del Consiglio Comunale, è la seconda donna a sedere su quella sedia e poi invece c'è la cronaca con una donna fanese di 60 anni che è morta all'ospedale di Torrette di Ancona. Cominciamo dal Carlino e cominciamo proprio dalla pagina di Fano. Allora la politica, Rosetta Fulvi eletta presidente in Consiglio nessun colpo di scena su Bentra Minardi ha avuto 20 voti a favore, 4 dall'opposizione, seconda presidente donna dell'assemblea, mentre oggi Cristian Fanesi diventerà il settimo assessore della giunta firmata, guidata da Massimo Seri. Fanese va in ospedale per una visita, muore 24 ore dopo in reparto, è successo alla Torrette di Ancona, la donna si chiama Giuseppa Pisanelli, 60 anni di Fano, deceduta martedì scorso all'interno del reparto di gastroenterologia dell'ospedale regionale di Torrette. Adesso la salma è sotto l'autorità giudiziaria, la procura disporrà lo svolgimento di un'autopsia per stabilire eventuali responsabilità. Tutto questo la procura ha aperto un'inchiesta dopo un esposto presentato dalla famiglia della vittima. Noi non facciamo la cresta su niente, parlano quelli della One Emergenza che respinge seccamente ogni accusa. Noi abbiamo vinto una gara mentre le associazioni di volontariato fanno il pieno. Dunque si acuisce questa diatriba che c'è sempre stata un po' sotto, mai svelata neanche troppo, però adesso ovviamente in situazioni come queste tutte queste cose vengono a galla e quindi tra chi svolge come associazione e tra chi invece... vabbè, comunque. Tutto sul quotidiano questa mattina. Poi una bella storia, nel senso è una bella lettera quella che ha scritto a Corata questo papà, si chiama Paolo Cilia, il figlio Giovannino affetto da una rara forma di autismo. Paolo ha 50 anni, è di Orciano, ha due figli disabili, un ragazzino di 11 anni affetto da una grave forma di autismo e una bimba di 3 anni con la sindrome di Down e scrive in questa lettera come lotta ogni giorno per 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 sé ma anche per altri perché poi scrive quando uno scrive a un presidente della regione come ha fatto in questo caso Paolo al presidente Luca Ceriscioli non lo fa soltanto per se stesso, lo fa certamente anche perché conosce la situazione in cui vivono le famiglie come la sua o come la sua insomma. Ecco, quindi scrive parole molto belle per il taglio dei fondi e cosa scrive? Per esempio in fondo un finale di questa lettera molto toccante, poi vi lascio ovviamente la potrete leggere sul giornale, acquistando il giornale questa mattina in edicola, gli ultimi, gli anziani disabili scrive, i bambini non sono soltanto una risorsa, non sono solo il motore dell'economia della nostra terra, sono molto di più, sono il nostro tesoro, i nostri docenti di educazione civica perché ci obbligano quotidianamente a tirare fuori il meglio di noi, a crescere verso il bene comune. Questa è la parte finale di questa lettera, molto bella. L'omicidio di Svetlana invece a Piobbico, il colpevole è il marito Nicolae, la corte d'assiso di appello di Pesaro l'ha condannato ieri a 27 anni di carcere, il pubblico ministero Catani aveva chiesto 30 anni di reclusione, un'uccisione a cui è seguita la sottrazione di cadavere, qualcuno ricorderà che era stata ritrovata poi questa povera donna in un piccolo torrente di vicino all'abitazione, credo proprio a ridosso del Natale di qualche anno fa. L'Unione Europea, andiamo a Cagli, l'Unione Europea ci aiuti a cambiare l'iva al tartufo. Appello di Acqualagna per portarla al 4% e regolamentarne la materia. Il Comune di Acqualagna dunque denuncia lo Stato italiano e la Commissione Europea per non essersi adeguato al diritto comunitario e supposte contraddizioni legislative nel mercato del tartufo. Adesso apriamo invece il Corriere Adriatico, anche qui naturalmente in evidenza la politica con le elezioni di Rosetta Fugli, presidente del Consiglio Comunale, eletta la prima votazione grazie all'adesione trasversale dell'Aulo, solo 4 sì per Omiccioli. Minardi ha ringraziato tutti i componenti dell'Assemblea ricordando gli atti più significativi del suo mandato. Sopra invece la cronaca, un ubriaco al volante si schianta contro l'auto dell'ex presidente di Aset Spa Giovanni Mattioli, erano passati da circa mezz'ora, quindi mezzogiorno di ieri mattina quando a casa Mattioli in via 4 Novembre è suonato il campanello e insomma si è trovato di fronte gli agenti della Polizia Stradale perché hanno suonato il campanello per dirgli insomma che sotto l'Alfa 156 parcheggiata era stata danneggiata. La vettura di Aset era di fronte a casa, il conducente di 65 anni è denunciato per ebrezza. Poi un camion che ha perso il carico, una strada chiusa e naturalmente disagi, anche perché stiamo parlando di una strada trafficatissima a mezzogiorno e 10, cioè via Papiria. Un camion ha perso il carico che stava trasportando, insomma alla fine un carico di cereali tra l'altro. Se avete voglia di guardarvi le fotografie sembra quasi un'opera d'arte, nel senso che c'è questo rosso sulla strada che alla fine, a parte i disagi, ieri immagino adesso parlare di opera d'arte quando magari qualcuno ieri è stato incolonnato per mezz'ora in attesa del mezzo che poi ha pulito la carreggiata, però è bello vedere questa cosa un po' artistica. Carnevale invece, carnevali carristi fuori, la protesta della categoria contro il presidente Cecchini sembra un dialogo tra sordi, dalla carnevalesca e dal comune escono segnali di disgelo, da parte dell'associazione dei carristi invece si riaccende la polemica accusandola controparte di volerle emarginare. Dunque però si tratta, si tratta ad oltranza e dunque le decisioni sono procrastinate a lunedì. Sotto la storia della fotografia, se vi piace fare le foto, avete voglia di andarvi a vedere con che mezzi venivano scattate le fotografie tanti anni fa. Ebbene c'è una mostra molto interessante, un'esposizione alla Memo a Fano a cura di Sparaventi e Talevi e che sarà inaugurata sabato pomeriggio ed è stata presentata ieri questa collezione privata ed è molto bella, insomma da vedere. La mostra è allestita, la Mediateca Montanari sarà inaugurata sabato prossimo alle 5 e mezzo del pomeriggio e sarà visitabile fino al 15 di novembre. C'è un po' di sport sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, a 17 anni è una promessa, una promessa è il figlio di Paolo Toffoli, campione del mondo, stiamo parlando del figlio Alessandro che è al Club Italia di Roma, l'esordio in campionato è fissato per domenica a mezzogiorno, in casa contro il Castellana Grotta, per lui la canotta azzurra numero 17, proprio come l'amico Pierotti, alla faccia della scaramanzia, insomma facciamo naturalmente l'in bocca al lupo ad Alessandro Toffoli che tra l'altro è già vice campione d'Europa con l'Under 19 e che adesso appunto è nel Club Italia a Roma. Tagliolini pensa solo a Pesaro, Tagliolini è il presidente della provincia di Pesaro, dopo il crollo della provinciale Isola del Piano scoppia la protesta in consiglio, Ricci ottiene i fondi, fondi incredibili da Renzi, dal premier Renzi, mentre le piccole realtà sono lasciate all'abbandono e questo è il cratere, vedete nella fotografia pubblicata dal Corriere, del cratere della strada provinciale e lo sottolinea tutto questo il capogruppo della minoranza Andrea Montalbini. L'altra pagina invece è quella di Senigallia, insomma a Senigallia si occupano ancora del problema delle prostitute, prostitute in strada, la squillo fa sesso in auto sulla statale, prestazione a bordo per evitare i controlli, due prostitute sono state multate, ammiccavano sul ciglio della strada. Contravenzione di 50 euro alle lucciole che in pose sexy distraevano gli automobilisti, continua l'attività del commissariato anche tra i veicoli in sosta in rotatorie e in cantieri. L'altra pagina invece del Corriere Adriatico, eccola qua, via il logo di Snoopy dal Knight. La società diffida a togliere il celebre cagnolino dal logo di questo Knight. I titolari dicono è così però da 40 anni, per noi è un danno. Ci hanno scritto una lettera, si sono accorti solo ora perché forse c'è un film in uscita. La pagina di Pesaro invece del messaggero, se non riuscite a pagare le tasse al vostro comune potete sempre prestare la vostra mano d'opera per avere qualche agevolazione, qualche sconto. Questa è un po' la filosofia. Ore di lavoro al posto delle tasse. Il PD accoglie la proposta dei grillini, attività socialmente utili per pagare parte delle imposte. La possibilità sarà riservata alle famiglie non abbienti. Il comune studierà comunque un regolamento. A centro pagina la corsa di Margherita all'X Factor, che è il talent show di Sky. Muore durante una trasfusione. La procura apre un'inchiesta a Fano, giallo, su una donna di 60 anni, ricoverata all'ospedale di Ancona. Trasporti a San Marino, 50 ditte multate per 3 milioni di euro. Fita CNA contesta l'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate e chiede aiuto anche ai parlamentari. Le pagine interne naturalmente parlano di tutto quello che vi ho appena detto dalla prima pagina. Ci sono ovviamente dai lavori socialmente utili al posto delle tasse fino alla raccolta dei rifiuti. Cambiano gli orari in centro storico a Pesero. Chiudiamo con la pagina di Fano invece. Naturalmente la cronaca, vedete anche qui tutto il servizio dettagliato su questa brutta pagina che viene raccontata sul giornale. Il PM di Quonzo dice ha già sentito alcuni medici come persone informate sui fatti, probabilmente sarà disposta l'autopsia. Poi anche qui Rosetta Fulvio eletta Presidente del Consiglio Comunale. Multiservizi unica, seri contro ricci, da noi il pubblico funziona bene. Il sindaco ribatte al suo collega di Pesero che critica l'ASET e propone, e quindi tornano alla carica per proporre un accorpamento. Ma in realtà ASET secondo noi sta bene lì dov'è perché da quello che sappiamo gode di ottima salute. Volano stracci tra Carristi e Carnevalesca, si interrompono in malo modo le trattative sui compensi. Cecchini, il Presidente della Carnevalesca, dice fanno finta di non capire. Cade grano dal camion, la strada rimane bloccata. L'episodio intorno a mezzogiorno di ieri. La rassegna stampa finisce qui, grazie per averci seguito. Vi ricordo questa sera l'appuntamento alle 20.30 con Occhio alla Notizia e poi il nostro portale invece Occhio alla Notizia.it per seguire in tempo reale tutte le notizie che accadono durante il giorno, così come vi ricordiamo che siamo qui pronti ad accogliere sempre e con piacere le vostre segnalazioni al 338 4968 250. Passate una buona giornata, ci vediamo stasera. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS